Il virus avanza a passo moderato, ma gli ospedali sono al limite. Si potrebbe sintetizzare così la situazione epidemiologica in Abruzzo. Oggi 190 nuovi casi di covid su 4.154 test, tra antigenici e molecolari, per un tasso di positività complessivo del 4,6%, in linea con gli ultimi giorni. Il più giovane tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 90. Le province con più nuovi casi sono quelle dell'Aquila e di Chieti, con rispettivamente 68 e 62 contagi. Circa la metà di nuovi casi nel Terramano e nel Pescarese, dove i contagiati sono rispettivamente 33 e 30. Nelle ultime ore si registrano 296 guariti e 7 decessi, di cui due sono riferiti a morti avvenute nei giorni scorsi, ma comunicate solo oggi dalle ASL. Le attualmente positivi in Abruzzo diminuiscono ancora. Sono 11.068, 114 in meno rispetto a ieri. E se il propagarsi del virus è stabile, purtroppo lo è anche il numero dei ricoverati. 670 pazienti sono ricoverati in area medica, uno in meno rispetto a ieri. 89 sono invece ricoverati nelle terapie intensive, 4 in più rispetto a ieri, a fronte di 7 nuovi ingressi. Ormai da parecchie settimane il tasso di occupazione nelle rianimazioni e circa a 10 punti percentuali superiore la soglia d'allarme fissata dal Ministero della Salute.